Perché Simone non di Flame, non so cosa stavano lì a fare Come provocazione si potrebbero anche mettere in clave Fanno una reaction una dopo l'altra Sempre trollando in una maniera spaventosa Io non so come fate a divertirmi Vaffanculo Cerbero Boca, su cari Quello che dice il Cerbero a me non è un'influenza Cioè la loro opinione per me non ha valore Succhiatemi il cazzo, io creo, io macino, macino Ma non è giocato, se non fa la life su se te Dopo questa cosa vi dovete stare zitti Non basta far vedere una sentenza Non funziona E' arrivato un messaggio da parte di Matteo Sabba Senza denunce siete da qua, qua, qua Già scazzatini sai cosa fare Io faccio l'advisor nella vita Oltre che fare l'investor Mi dà una grossa carica Io voglio provare a streamare in inglese Io voglio provare a streamare in inglese Mi sono deciso, mi sono deciso dopo anni e anni Io voglio provare a streamare in inglese La espada che guarda il caudal Tu e l'aria che respiro E la luce della luce nel mar La carganta che ansio moja Che temo a bocca E la luce della luce nel mar E la luce della luce nel mar C'è un piccione che ogni giorno viene qua e smerda il barcone Ma questo pesa 3-4 kg Occhio Ma questo pesa 3-4 kg E la luce della luce 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 Perché non c'eri Quando volevo che tornassi qui Perché sono tutti uguali le parole L'importante è sforzarsi tantissimo E la luce della luce 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 Bene ragazzi Ma soprattutto Guardate come la indossa il nostro regista Cioè Il più freno Oh Proprio un'illuminazione meravigliosa Non siete in cazzo Sì siete in cazzo Ma io sono una darchica Di chi? Blind guardian Belli Mazza I protest the hero C'è sta C'è sta Faro il classico tecnico da centro sociale In effetti Quello che sta a dire Allora E i panini ragazzi I compagni Ambiarrabbiati I panini Li stanno facendo Nella stanza 2 I satonico riopet Capito I credero filth Bellissimo Comunque sì ragazzi Punto esclamativo MERS Sono disponibili Anche le felpe Anche le felpe In pre-order Quindi andate E comprate Come insegna Big Luca Sì Sono belle A me piacciono tanto Perché mi ricordano Proprio quello che ho sempre indossato In vita mia O sono ancora pieno di Magliette di gruppi Infatti c'è In realtà stavo venendo in giro Me stesso C'ho ancora mettere Sono Atartica Dei band guardian Dei muse Sono pieno Ed è un'estetica Che secondo me Col cerbero ci sta anche Perché siamo tipo una band Facciamo anche eventi dal vivo È un MERS Che ha Sense Sì Un MERS Che ha Sense Non volevo dirlo Quelle da battaglia Quelle sono Paymeme Quelle sono fighe Quelle da Diciamo da party Però non erano mai state vendute online Quelle sono disponibili Solo agli eventi Però sì Ci abbiamo lavorato Insomma Abbiamo scelto comunque Un partner Anche di qualità Zero N Tanto poi su Instagram Trovate tutto Loro insomma Lavorano molto bene Simon Qualcuno di voi sicuramente Lo conosce anche E niente Insomma Ci sono vari artisti Che ci lavorano Intendo Alla lavorazione Non gente che Lavora con Zero N Anche quella Però Insomma Siamo molto soddisfatti Siamo molto soddisfatti Detto questo Esatto Detto questo Abbiamo un po' Di cosette da vedere Intanto Per chiunque sia Un piccolo scansafatiche O un carissimo scansafatiche Il buon Bavaro Ci dà un consiglio Per guadagnare Grazie Gigi Essendo un dottore Se non erro Sì E soprattutto È una fonte adorevole Scansafatiche Ci piace Sto lavorando con Peter Za tanto Ed è una delle persone Più serie Ed affidabili Peter Peter Che cosa vi dice Il nome Peter Parker Su Spider-Man Io Pan per esempio Vedi Marco Peter Gabriel L'ho detto già io Parker Griffin È vero pure Peter Gomez Basta così tanti Peter Gabriel Sì l'ho detto Parecchi eh Poi c'è Peter Dinklage Dinklage C'è posta Poi ne sai che è lui Peter Minus Oddio Che era Harry Potter Peter Minus Ah Chi era Peter Minus Eh sì però Peter Crouch Forte Gli rammollava Peter Loverson Sì Peter Saba Jordan Peterson Non c'entra un cazzo però Ok L'infame di Harry Potter Beh quale dei tanti però Non era Codaliscia però No Codaliscia era un altro Vabbè Sarà uno di questi comunque Perché non è che Cioè è uno di quelli che conosciamo Ah era Codaliscia Ah era lui Ok Ok era il soprannome Codaliscia Giustamente Ok ok Allora Cosa farà questo caro Peter Uno Vi aiuterà a crearvi Un'entrata extra superiore Al vostro stipendio Già dal primo mese Diciamo che di solito L'entrata extra Sono extra Perché non sono Cioè sono Più esigue Perché appunto sono extra Direttore più Più alta del mio stipendio Un'entrata extra Quindi il mio Diventa il mio Stipendio primario Esatto Vabbè un'entrata extra Superiore al vostro stipendio Già dal primo mese E mi fa molto ridere Questo punto uno Perché vale per qualsiasi Stipendio quindi Cioè se io guadagno Che ne so 50.000 euro al mese È per forza superiore Guadagnerai 51.000 Eh però Cioè Vale per quello che guadagna Zero Quello che guadagna 10 euro Per quello che guadagna 1000, 2000, 20.000 Quindi mi sembra Un ottimo punto questo È già una frase Ed è una persona Distaccata dalla realtà Sì è che sta racconta cazzate Fondamentalmente Due Potrete viaggiare Fare regali alla famiglia E togliervi qualche sfizio Proprio la cosa più generica del mondo A parte poi decido io Come spendere i miei soldi Esatto Coglione Persona X Intendo chi ha scritto Sto vostro Perché è chiaro che Se guardate Anche da impostazione visiva È identico A tutti quelli che vediamo Ah ok Costantemente Cioè avete fatto caso Quelli di Anima Quelli di Corona Sono tutti così Perché? Perché li mandano No li mandano direttamente i guru E alla fine Solitamente mettono Con questo nick Mandate questo nick in DM Che è il nick del tizio Che ti sta sponsorizzando In modo che poi I vari guru Possano contare Le interazioni dirette Che Marco Chitano X Manda Ok? E sono tutti uguali Sì sto sentendo anche io Questi botti Marco E mi sto incazzando Infatti Da dove vengono? Sopra c'è stato Tipo un toro Che corre Cazze nick Ho sentito Ma quindi veniva da sopra? Non lo so Forse pure da fuori Ok Stiamo attenti Punto 3 Vi garantisce Direttamente lui L'inserimento in azienda Ma che vuol dire? Ma qual'azienda? L'inserimento Ma poi Peter Cioè buttato lì Perché di solito Che ne so Magari intendo Che non devi aprire Partita IVA Mi sembra strano È una frase un po' vaga Sì Ma può essere che Mi ricordo se collega Sul fatto che Dottor Bavaro Fa tanti regali Potrei anche tu Fare i regali alla gente Ah il suo format È fare i regali Che io non so un cazzo Ma guarda Diciamo che Il suo format Sono videocomici Essenzialmente Però I videocomici È vero Spesso sono impostati Sul fatto che lui Sia benestante E che possa permettersi Di fare i regali Alle tipe Fondamentalmente E spesso utilizza un po' Quel joke Voi siete poveri Scansate di che Ho i sordi Un po' di hate baiting Sì esatto Però la cosa che mi fa incazzare Quindi Non l'hate baiting Quello Tieni a se stesso Che ti fa incazzare Sì esatto Ti fa incazzare Soltanto se sei stupidino Perché dovresti Fartilo del culo Per dei video Innoqui Del dottor Bavaro Ecco qua Però diventa Un po' un fastidio Effettivo Da parte mia Perché dico Cioè sei diventato Adesso Un pochino virale Hai appena costruito Un briciolo Non dico di credibilità Però di notorietà E la prima cosa Che fai È già sputtanarti In questo modo Sì Cioè capisco Fabrizio Corona Poraccio Che è il Fabrizione Ormai C'ha 50 anni O gue Non gliene frega In cazzo A sta gente Ma manco hai iniziato C'hai 20 anni Quanti anni c'ha È un classico Tu da questo Capisci anche Le reali intenzioni Di un content creator Il fatto che magari Diceva di avere i soldi Non era così vero È questa solita cosa Si fa finta Di avere soldi Per poi arrivare A promettere A chi si è bevuto Che tu c'hai soldi Il modo per farli Aspetta Però era quasi palese Con lui Almeno secondo me Non lo so Cioè sembrava quasi Era palesemente sarcastico Lui Si capiva Che scherzava C'era delle buste Tu se Marco L'ho verso E c'hai gli anni Che c'hai C'hai una mente Però nel senso Un ventenne Che vede così Anche un po' Distrattamente Inconsapevolmente Tutto questo Non lo fa Sto ragionamento C'hai i soldi Fai i regali alle tipe Me lo voglio scopare Pure io Ti do retta Hai visto davvero Il dottor Bavaro Qualcosa con voi Ah ok Da solo no Potrebbe anche essere Cioè nel senso Io quando ho visto i video E tuttora potrei pensarlo Ma appunto Come hai detto Questa cosa un po' Lo smentisce Perché chi ha veramente I soldi Non fa ste porcate Però poteva anche essere Cioè fa video ironici Dove crea questo personaggio Ma realmente Magari è benestante Poteva essere benissimo Assolutamente Anzi a me Dava quell'impressione In realtà Di essere uno Che ne so Di famiglia Benestante Poi magari non lo è Non lo so Ragioniamo un attimo C'è uno veramente Di famiglia benestante Si metterebbe a fare video Dove dice Poveri E si mette a ride A me sembra più Una cosa che fa uno Un wannabe Non lo so Va bene Non lo so Per me Cioè per me Il vero ricco Come abbiamo pure detto Se staffa i cazzi sua Non staffa Non staffa i corsi Non staffa Si si Poi magari si Magari quello Anche un po' Claunesco Folcloristico Che lo fa tipo Come dicono giustamente In chat Vacchi Si E poi chiusa Di cosa stiamo parlando Di frustrazione sociale Di invidia Verso chi percepisci Abbia uno status sociale Più alto di te Sto ragionando Perché nella mia vita Ho conosciuto un sacco di gente Nata ricca Che è diventata povera Nata povera Che è diventata ricca Ricca che è rimasta ricca Povera che è rimasta povera Di solito Chi conosce bene Sto meccanismo di invidia Sono chi è nato povero O comunque Non benestante E chi conosce L'invidia E sa anche accederci Il ricco Nato nella bambaggia Neanche C'è l'asta cosa Questo sto dicendo Questo sto dicendo Poi siete d'accordo Non lo so Poi non lo so Poi sempre lo yacht Più grosso Pure loro Sì ma non ha quel tipo Di cattiveria È imbambaggito Il ricco Cioè sta tipo È addormentato Capito Non so come di Poi non lo so Sì sì Poi ovviamente Non tutti Però è vero Cioè solitamente Chi è proprio In una condizione Di estrema ricchezza Parliamo proprio Non benestante E basta Magari Poi dipende anche Ovviamente dall'educazione Cioè magari Ci sono famiglie super ricche È sempre più difficile Però in passato Succedeva anche in famiglie Di un certo tipo Che comunque Te facevano far culo Te facevano far culo E ti davano magari Una lira Fino a che non diventavi Che ne so Parte Della azienda De famiglia A quel punto È ricostretto Però di base In molti casi è vero Cioè io penso Che ne so Una elettra Lamborghini È chiaro che non abbia Quei codici No? A 12 anni C'aveva Che ne so Già davanti a sé 70 Lamborghini Potenzialmente sue No? Sì Quelli ragionano più Ma è normale Basta lavorare soldi Non è che fanno tipo Ah vedi C'hai soldi povero Quello lo far povero Che vuole essere ricco Capito Per quasi illudersi Non essere povero E che lui può farlo Così non rosica più Ma sta ancora rosicando Perché vuole arricchirsi Invece più Chi è ricco di famiglia Tipo la Lamborghini O chi altro È più sulle nuvole Capito Ho notato sta cosa Capito Più vabbè Ma Cioè diciamo che ne so Basta che lavori soldi Avrai soldi Cioè Ma tuo papà Non può farti lavorare Nella sua azienda Scusa Sì sì vabbè Diciamo Queste frasi qua Diciamo che Esatto È molto difficile È molto difficile Per uno nato Proprio in quel contesto Di ultra lusso Soprattutto se è giovane Rendersi conto Di alcune realtà Perché sono diverse Proprio dalle tue E spesso Frequenti anche Quelle persone lì Cioè magari fai Che ne so Degli studi Di un certo tipo Vai all'università Costosissima Frequenti quelle persone Vivi in quei quartieri lì Per esempio Avete citato Un nome interessante Il figlio di Briatore Nathan Falco Che io ho conosciuto Per poco Però In Sardegna Quando sono andato Lì al Come cazzo si chiama Il billionaire C'era Briatore E c'era pure il figlio Il figlio Ragazzo simpaticissimo Però È giovane Tra l'altro Penso che abbia 17 anni C'erano Proprio piccolino Però Aveva già Un alone Particolare Ovviamente Non per me Io non subivo Il suo fascino Chiaramente Però si vedeva Che lui Aveva una sicurezza Data da uno status Del tipo Qua è tutto mio E veniva rispettato Come fosse La regina d'Inghilterra Là dentro Ovviamente Cioè da persone Magari Che ne so Imprenditori Anche ricchi Rispettabili Persone Con tenore di vita alto Ma niente a che vedere Perché quello È il futuro Rampollo Della famiglia Potenzialmente C'è un impero E stiamo pieni Di questi appunto Rispetti A prescindere Abbassi un po' la testa Magari noi no Però arriva Il Briatore E questo ovviamente Modifica i rapporti sociali La psicologia interna Della persona stessa Del ricco stesso Che inizia a credere cose Il Briatore Aveva detto Che al figlio Gli voleva Fare tipo un anno Da lavapiatti A fargli vivere la vita Da povero Per finta Tipo reality Per fargli capire Com'è la vita da povero No Briatore Guarda ce l'ha un po' Questa cosa che vi dicevo Prima Poi non lo conosco così bene Però anche Ci ho scambiato parole Ho visto un po' Alcune cose Ce l'ha un po' Quella cosa che ti dicevo Che è molto legato Alla capetta Anche perché Briatore Invece non è De famiglia ricca Capito Cioè lui è cresciuto Invece in un contesto In cui si è guadagnato Tutto quello che ha Eh sì E lui avrà sviluppato Una mentalità Avrà appunto Un codice suo Perché ha avuto Una vita specifica Lui Cioè Indipendentemente Da alcune vicissitudini Che uno potrebbe analizzare Però comunque È uno che Il culo se l'è fatto E questo è indubbio Sì Però neanche appunto Secondo me Questo in generale Con i genitori Non devono pretendere O pensare Che il figlio Debba seguire la stessa cosa Anche perché sta In un'epoca diversa Certo certo Però secondo me È anche giusto Per quanto possibile Poi ripeto Alcune situazioni Sono talmente fuori dal mondo Che non le puoi controllare È giusto magari Instillare i tuoi valori Che hai appreso Nel corso della tua vita Io ci rifletto spesso Anche in relazione All'educazione di Asia No Cioè Secondo me Un pochino Bisogna far sudare Alcune cose Cioè Far comprendere Il valore del denaro Il valore del lavoro Il valore del regalo Queste cose qua Perché sono gli insegnamenti Che ho ricevuto Dai miei genitori Indipendentemente Dalla situazione economica La nostra magari è simile Però Io voglio ipotizzare Anche Un trattamento simile Qualora Non lo so Ci fosse una situazione Economica migliore Come può essere Che ne so Magari Una famiglia Che comunque Mantiene un approccio Nonostante La La ricchezza Mantiene un approccio Più moderato Coi figli Ma anche perché Tanto poi Banalmente Non si godono Un cazzo Se cominci a Sommergerli Di regali Soldi Diventano a suoi fatti Subito Che cazzo ci fanno Sovrastimolati Il valore delle cose Ho sentito Anche un'intervista Di un altro ricco Nato in famiglia Di super ricchi Che è Stephen Basalari E lui per esempio Disse proprio sta cosa Cioè Mio padre Mi dava una paghetta Mensile Quando ero bambino Altissima E io che cazzo Ce facevo giustamente La pagona Capito Cioè Dà in mano Quei sordi A un dodicenne Tredicenne Che ce fa Ah quindi Dice che non sapeva Cosa farci Sì Sì Ci sta E quindi E poi lui per esempio Uno che è partito Da una situazione Super aggiata Però anche lui Si è rinventato E ha dato Una nuova linfa A un'azienda di famiglia Che già era buona Però l'ha completamente Ristrutturata Con i social Quindi ha abbracciato Il nuovo mondo Cosiddetto Comunque Tornando al buon Bavaro Potete continuare A fare il vostro lavoro Tanto richiede Solo 3-4 ore al giorno E non avete bisogno Di partita IVA Ci hai preso Sì Perché Andy Darkul Ovviamente avessi La partita IVA E magari alcuni Ti chiedono di farlo Ma altri trovano Dei modi Per non fartela aprire Insomma Sì l'ho visto Captain Fantastic È interessante Però appunto Se non hai bisogno Di partita IVA Significa che Non supererai 5.000 euro annui Bravo Significa che Non è chissà quale cosa O ci sarà Un escamotage Un piccolo escamotage Eh sì Come piacciono a gelomba Un piccolo escamotage Scrivetegli Bavaro in DM Esatto E vi spiegherà tutto Sono tutti uguali Grazie After Ma infatti Peter Sagion Io penso che ci sia Proprio un meccanismo Di copia e incolla Imbarazzante Infatti esiste Anche il copy trading E stiamo parlando sempre Dello stesso ambiente Anche quello che ci raccontò Il medico gruppetto Di anima Cioè Perché Ho notato Che questa impostazione Identica Ce l'hanno tanti guru diversi Quindi significa che c'è una matrice Da cui qualcuno copia Cioè tipo Metodo Big Luka Tutti copiano Quel tipo di impostazione E qua evidentemente C'è un Qualche americano Eh probabile Esatto C'è un player Di mercato Che Che porta i trend E poi tutti copiano a pioggia Perché Poi anche magari Il piccolo medio copia Il competitor Leggermente più alto No E anche triste Io leggo anche i commenti Della contestazione Sotto i nostri caricamenti Tipo quando parlavo Ma perché Non per cazzo i guru Ma magari hanno ragione E a me questo Magari hanno ragione Mi piace anche Nel senso Perché sono sempre aperto Cioè che ne sai Magari Bavaro Te fa diventare ricco Io Guarda Cioè noi non lo sappiamo Effettivamente Io però Beh io so una cosa però Che già queste Sono affermazioni del cazzo Queste sì La prima è un'affermazione Fasulla La seconda È un'affermazione generica È a cazzo di cane La terza è Non meglio specificata Senza partita Poi tra l'altro Grazie Grazie mille per la sub No Qua dice Sto lavorando con Peter E se stessimo a fare Una cosa tipo assurda Per magari Qua veramente Cioè alzi 300 euro Ti è È forse il fatto che lo vendono Facendo pensare Che è molto di più Magari potrebbe essere un problema No io penso Di una cosa molto semplice Però non Non penso che proprio Lo prendi zero O comunque che Ti scammano Magari Due sordini Li alzi pure Guarda Io Semplicemente Penso a Banalità Logiche No Cioè Essendo così satulo Sto mercato Questo che dici tu È vero Però magari Riuscivo a farlo Come processo mentale Tre anni fa Il dubbio c'è sempre Chiaramente Però Adesso So talmente tanti Che Com'è possibile Che chiunque Poi magari All'interno De quei 50 Uno Però quello che poi dico È Ma sono tutti uguali Cioè Il metodo di vendita È lo stesso Di solito Il metodo di guadagno È lo stesso Cambiano delle virgole Ma siamo lì Copy trading Trading In passato Poteva essere crypto Poteva essere questo NFT Cioè Sono tutti Meta È come su Twitch Cioè Il periodo in cui va Raster Il periodo in cui va Casino Il periodo in cui va GTA RP Sì sì Cioè E quindi Il problema è che Se i metodi Sono più o meno quelli I metodi di vendita Di questi metodi Sono sempre gli stessi Sì E i player Sono infiniti Come cazzo è possibile Cioè Chiunque dovrebbe diventare Miliardario Comunque super benestante Servirebbe proprio per Fugare ogni dubbio Per dissolvere ogni dubbio Fare un'inchiesta Che significa Che qualcuno Si iscrive a tutto questo E dall'interno Vede se funziona o meno Magari neanche Cioè Ne so Le iene Capito Se serve qualcuno Che si prodiga A indagare su tutti Sti metodi Tutti sti guru E capire di cosa Si parla veramente Nell'effettivo Sì ma infatti Quando noi Diciamo commentiamo Le storie di questo tipo Sono sempre critiche Al metodo di vendita Non al metodo in sé Cioè Sempre questo metodo Di vendita È uguale agli altri Ti promette delle cose Fa leva Su questo Cosa è qui Cioè Un'analisi Di comunicazione Del manifesto Diciamo così Dello spot Sì anche È molto facile Mettere uno Due Tre Perché noi Cerchiamo Lo schemino Eh esatto Gli step Sono analisi Diciamo sulla pubblicità Ecco che può essere Fuorviante Ingannevole O comunque Confusionaria Fuorviante Perché appunto Ti dà delle informazioni Che non possono essere Confermate 100% Poi quando invece Si va nello specifico Cioè nel metodo specifico Ovvio che sarebbe In chiesta Come è stato per esempio Nel caso di Animal Abbiamo fatto domande Specifiche In live Anche con loro presenti Su proprio Il metodo Con cui vendono Quelle cose lì Oppure Altre inchieste Che abbiamo fatto Sì E là Cioè se noi diamo La certezza Questo personaggio Vende Una truffa Che è un'affermazione Molto pesante Che difficilmente facciamo Bisogna invece Diciamo La ciccia Esatto Cioè ad esempio Anche prima di dire Sabat è un truffatore Ce n'è voluto del tempo Cioè Abbiamo fatto delle inchieste Non è che Subito Abbiamo verificato Abbiamo visto le aziende Fantasma I soldi che Non sono arrivati Le sentenze del tribunale Esatto I bonifici Mai Mai girati Nel caso invece Perché Sabat è uno Nel caso di tutti questi Che come abbiamo detto Hanno un modello Comunque che ha una matrice In comune Significherebbe Che la matrice stessa È marcia Eh sì Ma Non lo so se lo è Magari è semplicemente Un metodo Che viene utilizzato Come posso dire Alla buona Nel senso che Non ti dà Chissà quali Vantaggi Ma neanche Chissà quali Svantaggi Il problema nostro Credo sia che Se mo noi Iniziassimo a parlare Con sto Peter Magari ci inizierebbe A di tutti i termini Così E noi Diciamo Ma che sta a di Capito Ci serve un Un palle uomo Comunque un qualcuno Che capisce veramente Di Che non si capisce Neanche di cosa Che sta a parlare È trading È crypto Che è Di solito Questi sono Metodi di guadagno Generici Che Come diceva Pure Anima So copy trading Trading Cioè tu fai Sì È la classica cosa Che tu metti Una piccola cifra E Con i classici Metodi di trading Dovresti fare Un margine E ognuno ti dice Che ha il metodo migliore Sempre così Ma perché Simone ci sta perculando Io sto semplicemente Sto togliendoci Dalla cosa Tutto sbagliato È tutto sbagliato E sto Sto cercando proprio Di fare L'avvocato del diavolo Per andare a fondo Di questa cosa Perché ok L'ennesimo curo Che palle L'ennesimo Promettono i soldi Che palle Però Chi è sto Peter Vediamo un po' Per curiosità A parte che ecco Per esempio Un'altra cosa Che spesso abbiamo fatto Il Il Trader In questione O il guru In questione Magari all'interno Del suo profilo C'ha già delle cose Che non tornano Cioè anche lì Promesse di un certo tipo Che non si possono Mantene Con Dashboard Potenzialmente Non sempre Fake Cose che non dimostrano nulla Ma che invece Vengono dipinte Come dimostro X Com'era Peter? Tipo Sajjon Peter Sajjon Peter Sajjon è un bel nome Comunque Carissimi Scansafatiche Sajjon Top nome Il grande Sajjon Sperando che non abbia Il profilo privato Eccolo E' lui E' sì Eccolo King E' il king Vediamo un po' Imprenditore Chi sono e cosa faccio Vediamo un po' Oh vedete Non lo specifico Digital setter Ho aiutato più di 200 Ma comunque pure Ste robe Le emoji Tutto uguale Che palle 5.000 al mese Ogni 30 giorni Comunque te lo insegnano Nei corsi Vediamo Vediamo Risultati Senza partita IVA Ho 25 anni Vivo a Vienna Prima di conoscere Pietro e diventare Un setter Lavoravo come Camerino In un ristorante italiano Qua a Vienna Molti svantaggi No è un attore È un attore Vediamo I costi sono molto alti Per fortuna Eravamo in due Ma comunque A volte non bastava nemmeno Dopodiché ho conosciuto Pietro Che mi ha fatto Conoscere questo mondo Mi ha dato molte skill E inizialmente Ho iniziato a fare Così A tempo perso Per guadagnare Qualche soldi in più E ho visto che il primo mese Comunque avevo guadagnato All'incirca 2.200 euro Che skill però Non ha detto Il secondo 2.400 E quindi Io gli credo ragazzi Cioè Bravo ragazzo Occhio azzurro Chi verde Moltissimi svantaggi Moltissimi vantaggi Scusate Un piccolo Lavoro Sproiano Moltissimi svantaggi Devo dire che Stava Era un po' Teso Ho visto che faceva un po' Però potrebbe essere Un abituato a stare davanti Una telecamera Dunque guarda Pure queste storie Ma perché sono tutte uguali? Guarda Quante volte l'abbiamo viste così Dopo le classiche Col soldino Così la spunta V Questo è vero Ma nel merito Magari l'ha guadagnati veramente Sì 700 euro Ciao a tutti Mi chiamo Benedetta Ho quasi 23 anni E ho conosciuto Pietro Grazie All'online Guarda mi hai battagliato Quasi 23 anni 22 Informazione Quando l'ho conosciuto Mi ha completamente Svoltato La vita Oddio C'è una scritta C'è qualcosa Però non riesco a capire bene Il foglio Quello che mi ha insegnato Un grazie va anche a me stessa Che ho iniziato Questo percorso consapevole Bellissima sta frase Un grazie va anche a me stessa Che ho iniziato Questo percorso E' legista Giusto Non l'ha mai detto Nessuno Dentro il muro E' pronto per la fase Di massimizzazione Canepazzo Dragonball Roberta questo mese Non mi sembra Roberta Ah è Marco Questo è Marco Ha raggiunto il ruolo Di setter manager E oggi guadagna 5000 euro al mese E che Deo Ma io poi dico no Vedi perché poi uno giustamente dice Non mi riesco a fidare Cioè quindi questo c'è un'azienda Potentissima Sì Ci possiamo informare Vediamo il fatturato Vediamo i dipendenti Fa girare una barca di soldi Porca troia Benedetta E' riuscita a lasciare il suo lavoro Grazie alla professione di digital setter Guadagna in maniera costante 3000-3005 al mese Ma che cazzo stiamo a fare il live Stiamo a sbagliare tutto Cioè noi andiamo da Peter Andiamo da quell'altro che suggeriva Corona Che tanto è uguale script Andiamo da quell'altro ancora Diventiamo ricchissimi Sulla carta sì Perché scrivono cose senza contraddittorio Hanno addirittura dei ragazzi Come quei due che abbiamo visto Che testimoniano a cuor leggero Cose assurde no? Sì però io non mi fido qua Qua secondo me si è fregato E' Peter Ah regà Nessuno Nessuno Manco Marco Chitano Dave Cerca digital setter su Google Mi chiedevo che vuol dire Cerca solo questo Guarda Perché non si capisce cosa fanno esattamente Esatto Mirko Anche per me è un problema Il primo link Questa paghezza Vabbè vabbè che vuol dire No niente però Sì vabbè Ma che vuol dire Molti truffano ovviamente Ma non Peter Ma che vuol dire Ma è singolare sta cosa Secondo me Google andrebbe denunciato per diffamazione Perché non è possibile Rimetti in attimo Cioè non è possibile che se tu scrivi digital setter Primo risultato Il primo risultato è La truffa dei corsi per diventare digital setter Di Fabio Pellencin Questa è una diffamazione gravissima Per tutti questi onesti guru Secondo me Pellencin è semplicemente un top player De indicizzazione Google Tipo Aranzulla Ah comunque ecco che cos'è Il setter è praticamente colui che risponde ai messaggi di un'azienda Cerca di convincere gli interessati A effettuare un colloquio con un consulente Dà alcune informazioni Cioè sei quello là che devi chiamare la gente E trovare persone per il corso Ah quindi diventi un procracciatore Uno ha scritto che comunque L'ho approvato in chat Va un attimo su È un po' quello che ha provato a Fabi Gluca Con Scuola per Ricchi Che tu praticamente diventi il venditore Della stessa scuola Tra l'altro Scuola per Ricchi Svanita nel nulla No per dire Anche lì Nel senso che avevamo posto La criticità solo sulla vendita Sul modello diciamo di Scusami sulla pubblicità Svanita nel nulla Scuola per Ricchi Sono tipo cose che creano per due mesi E poi le limitano Però questa roba è problematica Perché tu dici che è una roba Magari investi Capito Anche tempo Soldi Eliminano anche le tracce Delle cazzate Ma avevamo visto che non c'era più come risultato Che ti dava il sito Ma poi se cliccavi era fuori Cosa Marcus? Una scritta Io ho chiesto info E posso dirvi Ti inseriscono in altre aziende Che a loro volta Vendono corsi E che cercano figure Che si occupino Della vendita Nei DM Ed illustrare i vari pacchetti Quindi devi fare il liccardo Per dire Devi andare a scrivere N DM Alle persone Per convincerle Di andare al corso Quindi tu Sei stato Ingannato Nella vendita Appunto Di un sogno Di diventare ricco E a tua volta Vieni inglobato In un sistema Dove devi a tua volta Vendere sogni A qualcun altro E quel qualcun altro Farà la tua stessa fine Se chiama Se chiama in un certo modo Sto schema però Qual è il fatto Il fatto è che Guarda che lo diciamo Pure l'altra volta Nell'analisi Alla fine è tipo Un sistema Che si autoalimenta Creando venditori Che devono creare Altri venditori Di corsi O in questo caso Uguale Cioè E alla fine Chiaramente Ci fai sordi Il capoccia Poi quando il capoccia Fa abbastanza soldi Grazie a tutti questi Micro venditori Chiaramente Riesce A diventare Il leader del settore Per un po' Sì E poi Tanto ovviamente Arriva il nuovo Tutte le capoccette Hanno perso tempo E soldi E Ovviamente tu Lì puoi dire Da zero A 50.000 euro Posso farti guadagnare Perché? Perché è tutta provvigione Sì È al pari Dei porta a porta Che ti vendono il folletto Loro non mettono nulla Come azienda Cioè Ti dicono Capito Io ti garantisco Che Se sei bravo Può guadagnare anche 10.000 euro al mese Magari è vero Perché se tu Ipoteticamente Chiudessi 100.000 euro Di vendite Ad altre persone O metti dentro Altra gente Che vende per te Effettivamente Te prendi la percentuale Sì poi il corso Dopo te lo aprite Quando diventi Grosso Capito Qual è il fatto Mamma mia E quindi È una follia Acquari Dentro altri acquari Sì È una follia E scuola per ricchi Era proprio quella roba Strutturata Io mo Non so se magari Big Blue Che l'abbia chiusa Solo per Il fallimento Inteso come Non fallimento Dal punto di vista aziendale Il fallimento Come poche vendite Io non so Questo veramente Non lo so Però A me Pareva anche Un po' strana Come impostazione Cioè Anche forse Problematica Da un punto di vista Legale Problematica I nipotesi Quindi non lo so Magari hanno detto È meglio che levamo Perché lì era proprio Strutturare Quel modello lì Cioè Tu entri Ti fai L'abbonamento Che cazzo era Tipo la tessera Sì Ne fai la tessera gold Sì E se metti dentro Altri tesserati A seconda del tuo E del loro abbonamento Prendi la percentuale Sì 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 Mi sembra un po' Stranina come cosa No? La cosa che poi Mi viene in mente È che non crea Reale valore Nel mondo Sta cosa Ma infatti Questa è la domanda È un echo chamber Esatto Questa è la domanda Che un pochino L'ha mandato Un minimo In tilt Però poi non è stata Ben enfatizzata Che gli fece Mr. Rip Cioè quando Mr. Rip chiese a Big Luca Sì ma tu Alla fine Come riesci a dimostrare Il reale valore Di ciò che vendi Ovviamente Che ti dice Ci hanno avuto risultati Le cose Però è vero Cioè è proprio difficile È il valore di voler Far soldi Il valore forse Appunto L'insegnamento Di una vendita Che però È vendita Dello stesso modello Alla Big Luca E in questo caso Lo stesso modello Di copy trading Di quello Un po' più grosso E tu Che hai visto Quello più grosso Lo provi ad imitare Magari dopo Che sei anche entrato O ci hai perso soldi Oppure hai visto Che c'è margine Ti metti Tu soldi da parte Se riesci a essere Un buon venditore A buttare dentro Altra gente E ti apri il tuo Giustamente Perché diciamo Il margine è più alto Ma lo faccio io Non lo do al capoccia E così a fiume Per quello che ogni giorno Ne vediamo 50 diversi Com'è possibile Il mini Big Luca E gli influencer Entrano nell'equazione Perché vengono contattati Per sponsorizzare Gli influencer sono gli unici Che in realtà guadagnano Direttamente Sì I paraculi E certo Perché giustamente Oddio Potrebbe anche essere Che anche gli stessi influencer Vengano pagati In base a quanto convertono E il fatto che Nelle storie C'è scritto Manda in DM Il nome Do dubbi Potrebbe suggerirlo Quindi magari Che ne so Uno grosso Come Corona Quei pequegno Sicuro se prende Una percentuale C'è una fee Più una percentuale Magari Che ne so Cerbero Scrivi in DM Cerbero Ok Comprano il corso Oppure Entrano nel programma 200 persone Te prendi una percentuale Su quelle 200 Entrate E quindi Questo Il fatto che siano uguali Qua per esempio Secondo me Ha sbagliato Il buon Peter Perché Chi scriverebbe Una roba del genere Con queste emoji Peter Sto andando Alla grande Emoji sorriso Mai utilizzato Da nessuno Questo mese Sono arrivati A 5200 Soldo A regà Nessuno scrive così Ve lo assicuro Sembrano le chat fake Dei Playlover Academy Nessuno scrive così Sì pure L'orario è strano Dai ma chi cazzo Scrive così C'è pure gente Che abusa di emoji Non scrive così Sì A parte che Mirko Con la C Non è affidabile Sì però Capito Se sei d'accordo Che per smascherare Tutto questo Bisogna entrarci dentro E farli implodere Certo All'interno Sto immaginando qualcuno Che si finge Sì guarda Marta Peter Volevo aggiornarti Il lavoro va sempre meglio Emoji bacetto Ma pure Chi è che scrive il nome Capito Pure quella prima Ha scritto il nome Ma questa cosa è strana Perché il nome viene Peter Questa cosa viene fatta Per farlo entrare Nella mente delle persone Ma non è che io ti scrivo Capito Simone È bravo Simone oggi Ovvio che stai scrivo a me Capito Cioè È palesemente fake Sta roba Su Ok Queste chat sono strane Ma sì Ma poi anche Ste emoji ripetute In ogni messaggio Mi sono trasferita Da Malta Insieme al mio ragazzo Uguale Sempre emoji finale Sto guadagnando 3000 al mese Grazie infinito Grandissima Marta Ma vaffanculo Dai su Sempre la stessa impostazione Lifestyle A me piace vedere queste cose È bello Mar Mediterraneo Una porta Ah beh Napoli Lifestyle Napoli Ah questo è più Secondigliano Ma qua è Calabria Calabria Qua in Trentino Papà Bella Qua canzone Fare a meno di te Coccodrillo e canguro No Che schifo No bonzi Lisbona Lisbona Bona Bona Canguro sembra un mega topo Molto semplicemente Un digitale Guarda Fatti una pausa Forse ci può Google ci può aiutare In questo No già l'abbiamo fatto Effettivamente Scusa Nella quale Tu sarai direttamente All'interno del Profilo dell'imprenditore O dell'azienda E dovrai semplicemente Rispondere E gestire i messaggi Al fine di Trarre nuovi appuntamenti Di vendita Per l'imprenditore Ok È un call center digitale Ragazzi Sì sì È i nuovi call center Esatto Quante ore dovrò lavorare Come digital center Non abbiamo Non ci sono orari specifici Potete lavorare Quante ore volete Un'ora Due ore Tre ore Come dieci Chiaramente Più lavorate Più appuntamenti Riuscite A portare a casa E più guadagnate Quindi non è un dopo lavoro Diventa un lavoro Ti devi mettere a disposizione Già 4-5 ore Non è un dopo lavoro È una cosa impegnativa 4-5 ore Se c'è un altro da 6 Da 8 Cioè Secondo me Questo è proprio Un modello sbagliato Di lavoro in generale Forse è un pensiero Un po' socialista Ma tutti dovrebbero essere Pagati il giusto E non Si dovrebbe dire Fai più ore Quindi distruggiti Perché ti do il premio Io sono abbastanza conto Questo perché porta Cioè in contesti Dove è regolamentato Ovviamente tipo Gli straordinari Di mio padre È tranquillo Ma se Tipo Gli dicessero Guarda se tu insegni 50 ore Questa settimana La scuola Ti dà un bel bonus Lui lo fa Perché magari C'ha bisogno dei sordi Ma ne viene meno Sia la sua salute Psicofisica Sia magari La qualità La qualità La qualità Esatto La qualità del servizio stesso Anche come viene visto Dagli altri colleghi Perché leva del lavoro Agli altri E questo è un pensiero Socialista che ho Quindi il lavoro Va anche distribuito E va dato E quindi Questo sistema qua È tipo Turbo capitalista È anarcho capitalista Quasi Cioè Puoi anche lavorare zero Ma se lavori 200 Sì Che Cioè io per esempio Lavora il giusto No Il fatto qual è ovviamente Il fatto è che Purtroppo Ci si approfitta Di questa cosa qua Come hai detto tu Nel senso A me non dispiace Neanche questo tipo Di approccio Cioè In teoria Ognuno può Regolamentarsi Da solo Può regolarsi da solo Può gestirsi Le proprie ore Però che succede Che il guru di turno Ti dice Tu puoi lavorare anche zero Però in realtà Spesso vengono sfruttati Sei influenzato Come Twitch Quante volte abbiamo detto Un conto è che tu Decidi autonomamente Sei libero professionista Oggi mi faccio il culo A lavorare Ma lo decido io E solo io Un conto è che c'è Qualcun altro Che ti Che ti dondola davanti Dei soldi potenziali Ma non solo La cosa La cosa ancora peggiore Secondo me è che Succede magari su Twitch Perché ti autoscambi No? Le cose di cui abbiamo parlato Adesso non ci ripetiamo Cioè ovviamente si crea Il meccanismo di competizione Malsana Autoschiavitù Più sono in live Più sub faccio No? Però in casi Magari non questo Però in casi similari Qual è il problema? Che tu magari Hai anche un accordo Hai anche magari un contratto E quindi Hai una certa responsabilità Non solo con te stesso Ma pure con qualcun altro Cioè se uno magari Ti dice Sì ok Vieni a lavorare Nella mia azienda Dai Compartita IVA Oppure non lo so Prestazione occasionale Non per forza assunto Lavori come collaboratore esterno Però insomma Noi lavoriamo così In base ai clienti che porti Magari c'è un fisso Microscopio Non in questo caso Però Prendi delle provvigioni Insomma una percentuale In base alle vendite che fai Tu ovviamente magari I primi periodi Che stai anche più carico Tenderai a lavorare tantissimo E creerai una forza lavoro Per questa gente qui Anche se non vendi Ergo non percepisci una lira Tu comunque fai pubblicità Gratis E questo è il problema Cioè Quelle Le cose che io infatti Ho sempre criticato I call center Ai porta a porta Laura guadagna stabilmente 3k al mese È che è un neurochirurgo Si sarà chiusa in quel coso lì Ma secondo me Non è sostenibile Ma a parte che Non è sostenibile Nel medio termine Neanche nel lungo Soprattutto Difficilmente Di creare delle skill Utilizzabili altrove Ed è la cosa Che a me è sempre fatto schifo Di tutti quanti i lavori Con provvigione Di questo tipo qua Ovviamente come diceva Simone Non che prendi qualcosa in più Se fai uno straordinario Una percentuale Non è quello Però Sulle vendite Percentuale sulle vendite Però Sono proprio lavori Creati per Spremere come Un agrume Gente che ha Tempo da investire Ma in realtà Spesso da perdere La cosa greve è che Un tempo magari Tu eri spremuto Come un agrume Ok E ora sei spremuto Come un agrume Per trovare Altra gente da spremere Bravo Sì Questa è una cosa in più Sì E guarda Non è così diverso Perché i venditori Porta a porta Spesso lo facevano Con i parenti Bravo Bravo Eh Facevano la stessa cosa Cioè Sì ma non è che il parente Diventa venditore Esatto il parente Non diventava un venditore Li dovevi sfruttare Diventava però Capito Cioè tu in realtà Là che facevi Buttavi dentro Tantissime persone Perché tu non li pagavi Non li pagavi E Anche se Quel singolo ragazzo Te vendeva Un aspirapolvere In tutta la sua famiglia Te comunque stavi al top No E compensavi magari Tre che non te vendevano nulla Uno perché ripeto Non li paghi Però magari che ne so C'avi delle spese Per i deplian Per i campioni Per queste cose qua Per i rimbozi Non so se voi l'avete mai fatto Io sono andato a fare un colloquio Per un lavoro del genere Quando mi hanno detto sta cosa Mi sono sentito una merda Non ce la facevo proprio io Sono lavori per chi ha il pelo sullo stomaco Cioè persone che O sono in situazioni disperate Perché chiamo mi nonna Perché gli devo fare comprare L'aspirapolvere da 80 euro Io vado a mi nonna E me li faccio Dai supplico per questi 80 euro Se proprio mi servono Ma non voglio chiedi soldi a mi nonna Eh ma là è meccanismo malsano Perché purtroppo Spesso sono anche i parenti Magari che Genuinamente Te vogliono aiutare Come per dire Oh vedi Ma mi sento io una merda Capito Sta a lavorare Mi nipote Dai Io do una mano E quindi è meccanismo Da stronzi proprio I sistemi Certe volte funzionano proprio così Alla fine Loro ti fanno credere Che può essere un lavoro Ma si estendono Passando da Vendendo Che ne so Alla fine L'hai venduta a tutti i parenti E poi dopo Quando hai finito i parenti L'amici L'amici da amici A gente che ti sopporta più Non lavori più E passa un altro venditore E ten sei più bravo Ma in realtà Hai solo finito i parenti Esatto Ma anche perché Onestamente Magari anni fa sì Però Il call center È vero che Il call center Si è spostato Molto spesso Su alcuni metodi Leggermente diversi Primis Target specifico Persone molto anziane Che alle volte Alle volte Diciamo che I call center Quelli più insinui Cosa cercano di fare Cercano di tenere Di più al telefono Persone molto anziane Che a un certo punto Ricercano magari anche compagnia E poi cercano di venderti qualcosa Chiaramente Lo fanno anche In maniera Abbastanza atroce Alcune compagnie energetiche Che offrono servizi energetici Lo fanno in maniera legale Ma ovviamente Si inseriscono In momenti particolari Quando tu vuoi fare Un cambio gestione Ti chiamano Alle volte Non riesci bene A comprendere Poi beh Queste non sono truffe Poi ci sono le truffe Vere e proprie Come è successo anche a me Non mi sono fatto truffare Ovviamente Che sono arrivate Delle finte Bollette da pagare Fatte anche abbastanza bene Per esempio Quando ho aperto L'azienda Lucida e la ribalta Mi sono arrivate Delle finte lettere Dell'agenzia Delle entrate Dicendomi Guarda Che ne so Fai un bonifico Questa roba qua Di 300 euro Che sono le spese Accessorie Per l'apertura Dell'azienda Io ovviamente Ho chiamato Il commercialista Ho fatto Ma che è sta roba Io ho già pagato tutto Fa no no Tutte truffe E questo per quanto riguarda Diciamo Alcune compagnie telefoniche Che anche lì Magari alcuni sono dipendenti Quindi lì c'è un lavoro effettivo Arsi il telefono e rompi il cazzo È già un lavoro che a me Fa vomitare E lo abolirei Almeno nel 90% Poi magari ci saranno 10% Di un lavoro che viene integrato Col call center Call center di vendita Entendo Non assistenza clienti Chiaramente E poi c'è quello porta a porta Che tendenzialmente Va sempre nella direzione Degli amici e parenti Come diceva Marco Perché Il venditore Veramente porta a porta Che va dallo sconosciuto E riesce a chiudere un contratto È molto raro Poi si utilizzano tecniche di PNL Quindi anche là Metodi marci Di manipolazione Però È difficile Che tu riesca Magari là sono anche competenze Effettivamente valide Che tu riesca A convince Persone Per chiudere un contratto Che ne so Della tua dieta dimagrante Avon Avon Intendo come azienda X Per dire azienda Che ne so Di cosmetici Aspirapolveri Integratori È molto difficile Molto molto difficile E anche in quel caso Alle volte Anche nel porta a porta Si ricerca Il target Anziani Eh beh sì Purtroppo Perché Perché ci sono Ovviamente in Italia Ma in tutto il mondo Molti anziani Soli Che magari stanno in casa Da soli Arriva un ragazzo Magari gentile Che si pone in un certo modo Che ha studiato Certe tecniche Di manipolatorie E capito Doffre il caffè Sta là Ci parla un pochetto Lo ascolta E quelli magari O c'è casca Oppure lo fanno Perché Insomma Si sentono anche in difetto A dirti di no Ok Quindi sono tutte cose Che abbiamo visto Za anni Ma Che ultimamente Si stanno riproponendo In modi Leggermente diversi Ma con gli stessi intenti Cioè Quello che dico sempre No La storia si ripete Cioè Cambia solo un po' Il colore del guscio Però alla fine È quello Oddio Ma che cosa è successo Ma ha fatto pure Ora il micro Ma perché ha fatto Sto a cosa Sono riuscito anche A riprenderla Sembrava una specie Non lo so Il ratto delle sabine Però Cazzo stavo a dire Beh Sì che essenzialmente Quindi Cambiano Tutto a posto Tutto a posto Faccio Faccio Tu sei pazzo Io Tu sei pazzo Sentivo che tossimi Ma tu sei pazzo Non smetti Se stai a tossire Sto a posto Sì No sì sì Un attimo Madonna Vabbè Appunto Dicevo Che quindi De facto Sono gli stessi Meccanismi Però adesso Lo fanno Con il digitale Ok E quindi Cosa fai Metti dentro Il tuo amico Manuel Come questo Che ha appena fatto La sab Anche Manuel Magari perché te conosce O ti segue Perché sei un influencer Quindi Nel giochetto Di cui parlavamo prima Entrano anche gli influencer Quelli Insomma Che se vendono Per due lire Per quattro danari E quindi Succede Che butti dentro Gente più facilmente Ma quello è Sempre la stessa roba E purtroppo I meccanismi Di marketing Di comunicazione Sono sempre gli stessi Non è che cambia molto Tu sorridevi Cercavi un modo Per proteggermi Però non c'eri Quando volevo Che L'uscita Comunque ragazzi Allora Il mitico Dillinger News Il giornale online Più famoso Del momento Scrive questo fantastico post Ma in teoria Non ci sono due comunisti Due Oma Sessuali Squate Tre C'è anche quello alto Vestito strano Con le trecce Alto Normale In realtà Ma te lo dico Ma allora Perché litigano A parte Forse voleva scrivere Quell'altro Vabbè Comunque Ma in che cosa Si è trasformato Muschio selvaggio Ma cosa c'entra Travaglio con capezzone Poi tutto in caps lock Ma è diventato Tipo un talk Ma poi Perché parlano Di quella influencer Moglie del tipo Che ha la ricerca Della verità Di facebook E questa è una critica Critica È un attacco A Lucarelli Io dico Ma Ho sentito oggi Un'intervista di Corona Fatta a Gurulandia Dove lui ripete Incessantemente Dillinger È una testata giornalistica È registrata È una testata giornalistica Come ti ho detto prima Io credo che lui Ora stia guardando Ossessivamente Vari podcast Perché se vuole Fare il suo podcast Come quello che abbiamo visto Con Morgan ieri E poi vabbè Tutto in caps Con errori Ma quello che dicevo io Non fatti A parte che sì Sono d'accordo pure io Tant'è che Ho visto un'altra clip Dove diceva Che ne so Tipo Gazzoli Radical Chic Due coglioni E anche One more time Quindi sì Se sta a fare proprio Un watch time Pesante sui podcast E quello che dico io è Tu giustamente dici Dillinger è una Testata giornalistica Registrata No Però scusami Perché il problema Profilo Instagram Desta pagina Fa post del genere E poi la cosa che me manda I matti È che se ci fate caso Difficilmente C'è un video Di una qualità decente Cioè a volte C'è proprio lui Che riprende il televisore Ma perché? Cioè vabbè Questi sono post Normali Però nei video Cioè Sta roba mi fa impazzire Perché mi immagino Proprio lui Che sta lì Scoglionato Fa che ne so Registra così O registrazione Guarda Guarda Ma che riprese so Guarda Io per me È l'unica domanda Cioè È lui che Capito Lo vedo uno abbastanza Irrequieto Quindi vede una cosa Da registra Capito Cioè Vabbè Questo forse Ok Però Spese Ecco Pure qua Lui che riprende Paresemente Sì vabbè Le cose di YouTube Fa così Capito Ma non è che C'è qualità Ma scusa Ma paga qualcuno Per scaricare video No Un minimo di qualità Vabbè E niente Ha messo sta clip Tra l'altro Mi fa ride Perché dice Cosa c'entra Travaglio con capezzone Allora Intanto Sta puntata È anche un mezzo remake Della puntata storica Di otto e mezzo Da Lilly Gruber Dove già In quindici anni fa Ci fu un incontro Tra loro due Ma poi in realtà Cioè Ma che vuol dire Cosa c'entra Davaglio con capezzone Sono Sono due direttori Di giornale Sì sì È lui che dice Ma io non avrei mai fatto Una cosa del genere Ma è diventato un talk Ma che vuol dire Sì Anche 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 no Ma poi perché parlano Cioè non ha senso Ma dobbiamo rispondere Veramente alle domande No è quello che dico Non ha senso Ma in teoria Non sono due comunisti A chi si riferisce A capezzone Travaglio Travaglio non è comunista No zero Si autodefinisce liberale Diciamo Di destra liberale Giusto Lui è allievo di Montanelli Che di sicuro non era comunista Esatto Guarda Già una cazzata Due omasessuali Non so cosa siano gli omasessuali Magari omarsessuali Esatto Non è comunista Esatto Squate Tre C'è anche quello alto Vestito Stanno con le trecce Non è una domanda È vero Ma allora perché litigano Perché litigate Ma poi è un litigio Cioè in confronto Tra l'altro Perché litigano Poi forse questo è il pezzo In cui c'è Travaglio Contro Fedez Ma non mi ricordo Sta clip Forse è quella Perché tra l'altro La puntata Spoiler Non è mai uscita Questa è una clip Di 15 secondi Che abbiamo pubblicato E la puntata Esce lunedì Cioè quindi lui L'altro Mi è scordato Perché io ovviamente Avendola fatta Non è neanche uscita Niente Non sa niente De come è stata impostata Vabbè top giornalismo Capito Cioè ma che vuol dire Che cosa si è trasformato Muschio selvaggio Come si risponde Ma poi lo sa benissimo Perché ogni volta Metetican post E ogni volta fa Tipo il giochetto Non lo nomino Però che ne so Quello che ha sostituito Luis Sall Quando c'era Luis Sall Era tutta un'altra roba In realtà Cioè Dal tuo punto di vista È quasi un vanto Che non ti nomini Perché significa Che l'hai fatto Popo Rosicà Presumo Ma sì ma pure ti ricordi In tv no Sì Quel poveretto Che non nomino Eh sì sì Cioè Io ti Dico veramente Ma Se vuoi Vendere Dillinger Come una testata giornalistica Ma Levate il telefono Fate una revisione No ma veramente Cioè Questo è lui Che sta tipo Triggerato O che se sveglia la mattina Oggi diventerò Un grande podcaster Quindi Come dici teme Guardo due tre podcast Io Penso di saper fare meglio Qualsiasi cosa E quindi sparo a zero Però non c'è Neanche un briciolo Diciamo di Senso Che lo faccio vedere io Come si fa i podcast No i post sensati Sono quelli che non scrive lui Infatti questo è un post Proprio Che ti allontana Infatti non Non mi sembra Che abbia molti commenti Molte cose Ma secondo voi Con due comunisti Si riferisce agli ospiti Per forza E non a quei due No 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 Si riferisce a Capezzone e Travaglio Il terzo sarei io Cosa c'entra Travaglio con Capezzone Avete fatto pure Gabrone Tra l'altro Ma poi ci entrano Anche perché ripeto Sono due direttori Due comunisti Uno del Libero Uno del Fatto Quotidiano Sono due giornalisti Nella mia trasmissione Io intervisto Peter Dinklage E Peter Sajon Griffin Ma poi Ma che vuol dire Cioè Anche Berlusconismo E anti-Berlusconismo Adesso non è che devo stare Le incai temi della puntata Però Cioè Sarebbe come dire Sì Dei botti di là Addirittura proprio Sì Tipo così Vabbè Che stanno a fare Vabbè dai Ci sarà La cosa più safe È che sta attaccando Un quadro a muro Però sì Guarda che bello forte Eh bravo Che cazzo è il quadro è E qui Porco due Vabbè Comunque dico Cioè Almeno guarda la puntata E critica Sì Ci sono pure dei momenti Criticabili Dentro sta puntata Eh per carità Come in tutte Però sarebbe come dire Boh Prende un'intervista nostra Che non è mai uscita Eh Che uscirà su YouTube Una clip De 10 secondi Ah no Tipo il party Clip del party De 10 secondi Lui non è venuto al party Ah però Ma che cazzo c'entra La band sul palco Cosa è diventato Il celebro party Ma hai visto una clip Di 15 secondi Né ci sei stato Né hai visto tutto Ma che critica è A parte il fatto È semplicemente Che ha visto Sta clip Si è triggerato Da qui il caps No E poi le cose sconnesse Si Perché ce l'ha con te Ce l'ha con in generale Con tutti gli altri podcast Che non essendo il suo Che lo che ha nella sua testa Fanno schifo E questa cosa È assolutamente Confermata Dall'approccio Che lui ha Nel podcast Che hanno pubblicato oggi Quelli di Burulandia Se tu ti guardi la puntata Tutti gli altri fanno schifo Si 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 percepisce Che lui sta cominciando E comunque è stata girata Qualche mese fa Quella puntata credo O comunque Sì perché era Vabbè comunque Un po' di tempo fa Quindi si percepisce Che lui adesso C'ha questa cosa Questa fissa Del momento E come al solito Si sente superiore a chiunque Addirittura che dice Tutte le inchieste Più importanti d'Italia Negli ultimi anni Le ho fatte io Tutte proprio Za anni E si E tra l'altro Ripeto Cioè È l'ennesima volta In cui Deve mettere una puntata De Muschio E Scrivere delle cose a caso Cioè Se vede che proprio Vorrebbe Vorrebbe Stare lì A condurre Paresemente Paresemente Sì sì Anche il fatto che Cioè A livello proprio inconscio Anche se tu fai il video A qualcosa L'odio e l'amore Stanno molto vicini Capito Cioè Tu C'hai comunque Sul tuo telefono In questo caso lui Il video di Muschio C'avrà il video di te C'avrà il video Cioè Ma sai perché lo capisci? Perché si vede che sono Tra i pochi post Che fa lui Cioè Gli altri sono Magari delegati Come vedi Quello da Rai Cioè È un video Postato in maniera decente Scaricato Scritto in italiano Più o meno decente A seconda del post Non in caps lock Non con frasi Inutili Insensate Sì Invece quelli Sono proprio Tipo i suoi sfoghi Cioè Quando tu vedi Quelli lì Sono i suoi sfoghi È una cosa romanticissima Perché effettivamente Anche tu hai il telefono Con lui Sì Con za anni È una sorta di amore No? Sì ma A me guarda Fa riderissimo Io Poi Loro non l'hanno visto Quando ho messo L'intro alternativa De oggi Io quella L'ho scaricata L'ho fatto Video screen Perché Mi hanno mandato Nei DM Questo post Io l'ho visto Mi sono sentito male Cioè lui Ah no è fuoco Calvo Che fa tutto Quasi tutto il figo Cioè è bellissimo Ho detto no cazzo Però vedi come ti appassiona Sì A me no Però è bello E mi appassiona Vederti appassionato La voglia Perché è un materiale umano Sinceramente interessante Mi fa ridere Mi fa anche riflettere Ti dico Fa ridere ma anche riflettere Su certi aspetti Proprio Della natura umana Ecco l'invidia La frustrazione L'impulsività L'elogio Perché poi So tante cose Poi ci ho anche parlato Io telefonicamente Alcune cose Me le ha confermate Insomma Più o meno indirettamente Abbiamo potuto vedere Come funziona Il suo ego Eh ma anche quella roba Ti ricordi Che lui mi scrisse in DM Sei finito Stasera sei finito In Caps Lock Capito Avete un rapporto Capito E sta roba Mi fa ridere Quindi io ho detto No è bellissima Sta clip Sembra la Loggia nera Quindi la scarico Col video screen La rallento Ed è bellissima Poi il finale Mo la facciamo rivedere Il finale di lui Che dà il bacio Alla serva Che chiama La chiama così L'abbiamo visto Sì 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 È nell'intro Eh fa troppo ride Cioè Ah vai Il colore del guscio Però alla fine è quello Oddio Ma sai Hai ripreso benissimo Ma che cosa è successo Vedevo che stavi pronto Là Ma sai perché Ti sentivo Sapevo che avresti fatto Qualcosa di strano Quindi ero un po' pronto Stava a tossire l'anima Quindi cioè Sono rientrato Tutto annichilito Tra l'altro è vero In tutta questa cosa Ci siamo dimenticati Il punto più interessante Amasessuali Omasessuali Cioè A parte che ritorna La sua tesi Dell'omosessualità Che aveva portato Anche Liccardo Sul suo canale Tra l'altro Ecco Poi vorrei pure una cosa Prima dovete passare All'omosessualità Per la cosa Della cameriera Faride È un po' una cosa Che un pochetto Vorremmo essere Cioè pure noi Cioè in un mondo Di fantasia Però lui Incarna un po' Quelle cose Come posso dire Quella voglia Di ogni uomo Di essere l'unico uomo Al mondo Sì il macismo Io so Quell'unico che conta Faccio quello che mi pare Si chiama patriarcato Sì Una volta ce l'avevamo Porca troia Il sogno era realtà Porca puttana Ce l'hanno levato Lui sì Un sogno era Eh sì E lui tenta di Rimanifestarlo In questa realtà Che ormai respinge Questa cosa bellissima Quello che si crea L'effetto Quello cringe Cioè oggettivamente Nonostante lui Secondo me sia Un bellissimo uomo Cioè Quanto cazzo è cringe Quella roba Cioè non può non arrivarti Il fatto che Cioè se vede che lui Vuole fare il convinto Però stride Sì E però avrebbe Il physical role Per farlo Cioè capito Non è che dici È uno Che un po' imbarazzo Però È proprio Percepisci quella gimmick Che va oltre Percepisci il dispendio Di energie Sì È proprio l'enfasi Col bicchiere così Perché è fatto in casa pure Il tryharding No no Ma l'ha sempre fatto Tu lo percepisci Quando la persona Sta tryhardando E quando invece È reale Sicurezza magari Sì 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 Cioè se c'era un professionista Poteva pure far sembrare realistico Ma non è l'unico Sì Non ho visti duemila così Eh ma perché Anche i video che Scusate ma Tra l'altro Allora rivediamo Lo dico solo questo Nell'interno Non è normale Sta sulla sua pagina Ok Perché così vediamo Come lui l'ha inteso Insomma Perché È proprio cringe Pure No stavo pensando Che in realtà Magari diciamo È il mio occhio Ad essere distorto No in realtà Mi sono ricordato Che con la faccenda Calciatori Lui è diventato Super meme Su tiktok Con tutti quanti i video Che lui si faceva da solo Con le passeggiate Vi ricordate La posizione Tipo il bro Ha detto Proprio a scommettere Per dire che Se ne sono accorti Un po' tutti Eh che è una cosa Per dire che arriva a molti Quel senso di cringe No Sì E quindi In effetti È una cosa che Non è solo interna Al cerbero Perché noi ci memiamo Lasciando perdere zanni Allora Eh però ecco C'ha C'ha un gatto Meraviglioso Bellissimo Bello Eccolo Cosa fa Dai la mano nei capelli Cosa sta facendo Quest'uomo In questo locale Si guarda intorno E cammina Ammina da una parte al lato Poi torna indietro Cosa sta facendo Hai capito Due metri quadrati poi Cioè se era una vera pubblicità Fatta decentemente Questo l'ha scritto lui Senta che la ride Da leggere il commento Fa l'amore col bicchiere L'americano Che fa Tutto intenso È proprio overactive Sì E questo è il capolavoro finale Ma con la bottiglia E' bello E' che comunque Lei rimane Seria Lei è brava Devo dire Sì Lei sì È l'unica È pazzesco Se questo lo facevi Tutti i dettagli Strettissimi Potesse pure Fico Il bicchiere Lui fa La faccia Se doveva vederlo Il cipide Ogni tanto la faccia Che sta Il commento dice Lo dico da colombiana Corona non sa Chi fu Pablo Escobar E questo sti cazzi Cioè Vabbè Può pure Non sapere Uno degli uomini Più cattivi Mai esistiti Ammazzo Tante persone innocenti Poi con il mix Di musica messicana Alcolica russa Tra l'altro la vodka La testore Marco Quando gli ho messo l'intro Gli ho detto Marco metti sti Ma che c'entra la vodka Quei Escobar Che russa È questa la cosa Che fa più ridere C'è il mix Di cose Che non c'entrano niente Messicano Cioè Tipo i cappelli messicani È vero Alcolica russa E la sua aria Da mafioso Ridicolo Nessuno batte corone In imbecillità A me è piaciuto Al limite Doveva fare una tequila Penso Però vedi Questo è pubblico diverso Dal nostro E comunque fa ride a tutti Fai piegare da ridere Dico davvero Non so spesso C'è una bimbo minchia Ah vedi davvero C'è questa gente Capito Se come i russi Non vanno più di moda Facciamo diventare Le vodka messicane Siccome Sarebbe Vabbè potrebbe essere Tutti quelli che criticano Attenzione ragazzi Cosa fanno nella loro vita Cosa faccio Cosa facciamo Tutti dottori Avvocati Magistrati O imprenditori Sì imprenditori Forse un po' Tutti seguaci di Gesù E della chiesa Ma chi d'ha detto Ma che c'entra Tutte brave persone Immagino Modelli da seguire Chi disprezza Compra Belli Questa è una che si è Identificata nell'essere Un bad boy Comunque Questa è una donna Che si vorrebbe scopar corona Paresemente Gli piace Quest'aspetto Un po' Da sopra Vorrebbe essere La cameriera Infatti Lui c'ha un pubblico Di donne Ovviamente Che ha Quei codici lì C'è l'uomo dominatore Sì L'uomo che non devi chiedere mai Le ancelle Sì Grande cabri Poi ce sta Per carità Però Ripeto Mi fa ammazzare da ride Perché È unico Guarda va Questa gente mi fa morire Vabbè diciamo che qua Stai a livelli mia Potrebbe essere video tuo Tranquillamente Ho detto stai a livelli mia Qua quindi Infatti mi fa ridere anche per quello Perché io poi sono il primo Diciamo Io ci vedo le similitudini Sì ma io sono il primo Però diciamo che Allora Perché te sei gay facendolo Io sono gay a prescindere Però al di là di quello Perché lui Capito Lo fa pure lui Perché Cioè io pure faccio ste robe Super Diciamo da Narciso Però Cioè ci metto quel tocco De autoironia Sì si vede Capito Cioè perché comunque Negli occhi Guarda sempre là Ma pure nel modo De fa Nel senso che Ho le scrittine Le cose Perché un po' dico Vabbè sì Un po' too much cringe Però ok Cioè me la flexo Ma so consapevo Invece Cioè Sarebbe assurdo dire Voglio passare Happy Bad Boy Quello infatti Non l'ho mai fatto Perché lui Lui aveva una gimmick Proprio estrema Tipo qua Cioè Un videoclip Sto qua dal basso Secondo me Con il sigarettone Vabbè Ai livelli del gap Comunque Sì Più o meno Sì Ma sono più belli Quelli dove Facco Perché fuma Perché fumare È da bad boy Capito Cioè È tutto falso Cioè Stasera no Se butta la cosa In testa Ma lo stai a fare In un set fotografico Capito Il tormento È un grave Il culto della personalità Che è una cosa Che ormai È passata Proprio Sa di vecchio Non lo so Questo è diventato Super meme Sto video Questo È un personaggio Comunque Ve lo c'è da dire Però vedi Già qua Che te fa il sorrisetto Imbarazzato Si Se mette a ride Bravo Cioè È un po' stile mio Nel senso Che dici Ok È una base Per meme Perfetta È in questo momento Che poi Gli voglio Comunque bene Che così Te la fa più a bene Però Quando è solo Narciso Non gli voglio bene Fai fatica A empatizzare Io gli voglio bene lo stesso Te dico la verità Però Appunto Questi poi sono gli aspetti Diciamo Migliori Secondo me De Corona Cioè il fatto che comunque Mi faccia ride genuinamente Non faccia dar male a nessuno Con queste cose qua Ripeto Il problema è Quando poi Si aspetti Suoi narcisistici Scadono nel voler Distruggere gli altri Perché li vedi Magari come Dei Competitor Quando io ci farei Anche molto volentieri Una chiacchierata In un podcast Magari Perché no In questo podcast Eh Perché Per dire Che lui Adesso sta in fissa Quei podcast Gli insegniamo Com'è un vero podcast Lo farei volentieri Criticandolo Per molti aspetti Ovviamente Però è una persona Comunque sicuramente Interessante Non è che è Un coglione Però Lui Capito Preferisce dire Che Sono omosessuale Come se poi fosse Un'ottesa Capisci Cioè pure quella roba All'anno Ma non sono due Omosessuali Poi non mi ricordo Se è Capezzone Tra l'altro Forse Capezzone Ha fatto coming out Però non lo so Però vabbè Anche fosse Cioè ma che vorrì Ma che categoria Hai Dei tre omosessuali Ma che c'entrano Ma non sono due omosessuali Come per dire che Se tu porti due omosessuali Al tavolo Non ci sono divergenze Non ci sono differenze Ma che vorrì Cioè ma uno Cioè due omosessuali Sono tutti uguali Pensano allo stesso modo Cioè Questa cosa che dici È molto bella Perché crede Cioè Significa che credi Nel potere Della riabilitazione No Nel senso Che nessuno è Destinato a essere Una cosa specifica No E secondo me Quello che lui è È molto influenzato Da chi ha Attorno Se sbloccasse Nuovi contesti Nuove conoscenze Appunto magari Parlando con te Andando Ospite a podcast Potrebbe veramente Un po' Capire E sbumerirsi Un po' Sì ma Ma Però Come sta facendo L'esempio Che ne so Gerry Scotti Che ho visto Una sua intervista Recentemente In un podcast Dove sta dicendo Che Si sta proprio Buttando Genuinamente In questo mondo Dei contenuti Su internet Perché gli piace E gli sembra Ormai che È tipo un hobby Pensionistico Ha detto Quindi Per lui Fare un podcast Ha detto È come Come posso dire Cioè fare una trasmissione È come fa una maratona Fare un podcast È come fa una passeggiatina A me guarda Sempre Cioè io Sono cresciuto Con queste idee qui Quella che dici tu Cioè Il discorso legato Alla riabilitazione Al cambiamento Certo Alle volte Prendi delle grosse Inculate Noi pure Anche tu sei così Alla fine Cioè tu non sei Uno vendicativo Non sei uno che porta Rancore Zero Zero proprio Fa più male a me Eh nel senso Però infatti Spesso ci prendiamo Delle inculate Gramorose Nel senso che Riapriamo la porta Veramente a tutti No E molti infatti Magari dicono pure Sbagliate Siete dei coglioni Gianluca meno Gianluca è più Sull'attenti Gianluca è tipo Perdono ma non dimentico La classica frase Cioè noi siamo più Boccaloni da questo punto di vista In certi casi È bello Perché effettivamente Succede Purtroppo nella maggioranza Dei casi no Però Non lo so Non riesco a vedere il mondo In un altro modo Perché Mi sembra assurdo Dover decidere Come effettivamente Un giudice Però Supremo Giudice Morale O un giudice Comportamentale Come quella persona È E sarà per sempre Allo stesso modo Io non riesco A dirlo nel mio cervello Cioè non riesco a dire Corona Sarà per sempre così Anche se poi magari Insomma è grandicero C'ha 50 anni Quindi Probabilmente sarà così Però nel mio cervello Non riesco Ad accettare Una cosa del genere Capito Perché non vorrei Che qualcuno Lo facesse neanche a me Esatto Perché significa Che potrebbe essere Vera per te Se è vera per qualcun altro E non può essere vera E non lo è Però Appunto Chiunque secondo me Cambiando contesto sociale Ampliando un po' Le conoscenze Andando proprio A mettere la testa fuori Dalla comfort zone Può cambiare Tranquillamente Già fa tantissimo Solo quello A andare a conoscere Veramente A parlare veramente Con le persone Assolutamente Se è un boccalone Ah no Bocchinone Può essere però Una crescita Reale Sì No però È vero Cioè nel senso Mi Mi affascina anche Perché È come Buttarsi In una nuova avventura Con la stessa persona Ma teoricamente Con aspetti diversi Della personalità Ed è per questo Che Io non riesco A provare rancore Per le persone A chiudere le porte Facciamo un esempio Recente Grimbaud Per dire Cioè È una persona Che ha avuto Secondo me Degli atteggiamenti Criticabili E anche personalmente Non si era comportato bene Ma Nel momento in cui Poi vieni Mi parli In maniera sincera Aperta Ti vorrei invitare A sta cosa Perché Parliamo un po' Ma perché Dovrei dire no Per principio Invece no Ho fatto una bella Ghiacchierata Anche umanamente Lasciando perdere la live Che poi Lavorativamente Uno può fare Le scelte o meno Però umanamente Oppure Il gabrone Ma anche Che ne so Un futur motta Che magari In quel caso Era più da noi Sottovalutato Che valutato Negativamente Poi alle volte Ripeto Magari con social boom Che ho provato A fare la stessa cosa Ti rendi conto Che Forse non è Che è cambiato Così tanto E so più Diciamo Le inculatine Che te prendi Io metto Il piede Di Come si dice Il piede di ferro Solo quando Penso che Si sta subendo Una prepotenza Tipo Cicalone Io lì Non so come si dice Che metto proprio Che mi impunto Pieni di piombo Esatto Scusa Marco Tu sei pazzo Comunque Sei un bel pazzo No quello lo capisco Secondo me Da parte 2 Eppure un meccanismo Di difesa magari Di autodifesa E di difesa Di chi ti sta intorno Si specie di chi mi sta intorno Anche mia Certo Eh perché Beh Matteo Sapa Cioè dell'armonia Lì è proprio Dell'armonia sociale Del posto in cui vivo E anche della serenità Delle persone che ho accanto Con cui lavoro Proprio mille motivi Sì ma l'ho notato Anche perché tu spesso Ti senti magari In una morsa Io lo vedo A volte anche magari Non per colpa di qualcuno Però che ne so La morsa della routine Sì La morsa No Della Della casa Della città No E a maggior ragione Poi se c'è qualcuno Che attivamente Crea una situazione Che è problematica A quel punto Tipo sgomiti Che usci fuori Da quella cosa là Bravissimo Eh sì sì Ho capito Lì la morsa Era ovviamente In quello che posso dire In quello che possiamo dire In questa sorta Di alone Che volevo proprio Dissipare Come se qualcuno Capito Ogni volta Prendesse i due pensieri E li tirasse indietro Dico no no Questo non può uscire Non può uscire E lo rimette dentro Ma anche i vostri Sì 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 Infatti Su sta cosa Sì Ho capito un po' Come si è fatto Ed è anche giusto In quel caso Perché è un riprendersi Dei diritti Penso Sì sì La vedo come riprendermi La mia libertà Sacrosanta Di essere umano Di poter dire Quello che penso E di poter agire Senza timori strani Esatto esatto E certo poi Questa cosa qua Che ripeto Può passare anche Per boccaloneria Per Non lo so Eccessiva Bontà Non lo so Però Chiaramente Almeno per quanto Riguarda me Per come so fatto io Non è che implica Poi L'ascesa Al paradiso Della persona E quindi La sua Intoccabilità Cioè Se domani Greenbound Fa una cosa Non è che mo Perché ci stanno Buoni rapporti Non lo posso dire Ovviamente no Oppure Che ne so Qualcuno pure Ho visto Poi chiaramente Sotto le clip Ricaricate Trovi la peggio mondezza Hanno ricaricato Pure la clip Quella Su Su Rondo No Su Trapidari Su altre pagine Cioè Molti anche su TikTok Altri post Hanno detto Ma come Fai intervista E poi lo critica Cioè Parte il fatto Che anche All'interno Di quel discorso Io cerco sempre Di integrare Varie cose Cioè Dico Magari Umanamente Si è comportato Bene con me Su questo Su quest'altra Cosa no Lavorativamente No Questo sì La musica Mi piace Cerco sempre Di spiegare bene Uguale con Cruciani Cioè Ah ma come Tu devi sta zitto Non sei un pelo Del suo culo Ti mangia in testa Ma perché Fai muschio selvaggio Dici che non è bravo Ma chi ha detto questo Non ho mai detto Non è bravo Non è Invece lavorare con Fete Ma che c'entra Non ho detto Non bisogna lavorare Su Cruciani Ho detto Questa cosa Mi sembra una cazzetta Oppure è un'affermazione Che non condivido Ma che c'entra Capito E lo stesso modo Rondo Lì è stato Caruccio La gang sua Si sono comportati bene Sono stati educati Nel fuori onda Sono stati carini Cioè E poi però Magari mi hanno rotto il cazzo Dopo per tagliare le cose E io l'ho detto Perché non lo devo dire Certo Perché non lo devo dire Certo Ti sei comportato male Non hai rispettato il mio lavoro Oltre i limiti Che c'eravamo detti C'è presente Quando la gente usa La scusa Ma siamo amici Comunque Abbiamo un rapporto Come puoi Per me questo è molto difficile Proprio anche Nella mia vita sociale Ma pure lavorativa Cioè Tutti noi Che siamo una squadra Alla fin fine Io riesco a lavorare con voi Perché siamo allineati moralmente La direzione è quella Cioè Sarebbe follia No? Sì sì Noi abbiamo Idee diverse Magari Di come Dovrebbe andare al mondo Non lo so Caratteri completamente diversi Però Quello è così Cioè Siamo tutti Siamo tutti così Serve onestà Serve potersi dire le cose Sempre appunto Essere liberi Di essere se stessi E quando si creano delle situazioni Con persone che appunto Stanno nella nostra cerchia C'è una percezione di amicizia E poi fanno qualcosa che In qualche modo andrebbe criticato Poi perché facciamo sto lavoro No? Quindi è molto Difficile poi Configurare l'amico Che è un collega Sì Infatti Io ci soffro Molto per queste cose È per questo che non è Ho tutti amici Al di fuori De sto contesto Ottima scelta Sì Perché mi impedirebbe Di dire la mia È per questo che magari Appunto Con Rubino Abbiamo sto rapporto Sì Rubino infatti è uno Che ovviamente è il nostro amico Ovviamente lo conosciamo da tempo Però spesso Fa delle cose che Noi non condividiamo Ovviamente lo diciamo Poi lo si incazza Non ne parliamo Però è così Sì È difficile È difficile Perché ovviamente Da una parte sei un essere umano Quindi hai dei rapporti Devi avere Il discorso che io faccio sempre Pure con Alex Ripeto È ovvio La mia compagna La madre e la mia figlia Non è posso fangate Su delle Se no Giustamente Visto che c'è Qualsiasi rapporto Ci dovrebbe essere Una plurità di informazioni Sicuramente non lo dovrei fare io Come Fedez Non lo dovrei fare sua moglie No? Pure la gente che scrive Eh ma Perché non invita la moglie A fare inchiesta Ma secondo te Ma può fare un tato De muschio selvaggio Fedez Contro la moglie Cioè Cosa è fuori dal mondo Lo deve fare Un'altra persona Come ha fatto Tipo a Lucarelli Sì Ad esempio Se io fossi in Fedez Per come sono fatto io La lascerei Per come sono fatto io Poi ci stavano figlie di mezzo Esatto Cioè però Tante situazioni Non riuscirei a rimanere In un contesto Dove non posso Esprimermi E mi sento appunto Che ogni Cioè Per me sarebbe L'inferno in terra Immagina Girare per strada Con la gente Che sa sta cosa E ti viene a chiedere Tu non puoi essere onesto Ma io non me ce metto Cioè Allora Non sarei neanche arrivato A quel punto Perché proprio Cerco di vivere Una vita Circondandomi Con persone Che la pensano Non che la pensano come me Che agiscono però Di coscienza Quanto meno Che sono brave persone Ok Quindi Non riuscirei mai Ad arrivare A quel punto lì Non lo so No no T'ho capito E ti dico che Anche io so così E infatti Proprio quale Ma questo l'ho detto Già altre volte Nei primi mesi In cui noi poi Ci siamo messi insieme Ufficialmente Io ovviamente Gli ho fatto dei discorsi In relazione Al mio lavoro E al suo Tant'è che Ad esempio anche Bidu Che è una roba Che non è illegale Ma a me faceva cagare Non mi piace Quel tipo di mondo Non l'ho sponsorizzato Da tre anni Perché Ovviamente Ci ho parlato Ho detto Guarda Nel rispetto del mio lavoro Io Ovviamente Prendo degli impegni con te Tu chiederai Rispetto per il tuo lavoro Su certe cose Anche io Infatti non l'ha più fatto Non l'ha fatto più Nessun tipo di sponsorizzazione Del cazzo Ale Da tre anni a sta parte Perché Giustamente Ha rispettato il mio lavoro E in più Anche dal punto di vista Diciamo Deontologico Discutendone Ci siamo trovati d'accordo Magari lei Non ci pensava ai tempi Era più Gratto Grattabile Magari Anche se Non ha mai fatto cose estreme Però era diversa Da me da questo punto di vista E quindi Ovviamente Ci ho parlato Quindi sì Sono d'accordo Che alle volte Quando c'hai un Non so come dire Stampo morale Forse O anche una condotta Proprio tua Di vita È difficile Poi continuare Perché fa con tante persone Che sono completamente opposte Non nel modo di pensare Nel modo di Di vivere Nel carattere Ma proprio in queste scelte Che sono fondamentali Cioè Non è solo La base del nostro lavoro Questo Cioè Che se domani Ovviamente la gente Ci vedesse Sponsorizzare Perché è questo lavoro qui Che è particolarissimo Capito Fa parte anche Della nostra identità Della nostra vita No E pensa ora Guardandolo Guardandoci indietro No Quanto ci ha plasmato Come uomini Tantissimo E alle volte Forse anche In maniera Forzosa Del tipo Per forza di cose Eh tipo Tanto Anche se c'ho il diavoletto Non lo posso fa Sì Non lo posso fa Sì E quindi A un certo punto Diventa parte di te Il diavoletto Sì sì Perché è ovvio Che ci pensi Ce l'abbiamo tutti È inutile che qua Stiamo a fare Gli angeli Ognuno Ha delle tentazioni Nella vita L'occasione fa L'uomo ladro Si dice È ovvio Che i pensieri Un certo tipo C'è là Che magari Dici oh Ma perché Devo essere così Coglione A pagare tasse Tutte in Italia Ma non potremmo Fa una roba Magari del cazzo Caprimo Che ne so Una società Fasulla Lì Compresta No E scamotage E scamotage Poi ovviamente A livello pratico Non ci siamo mai informati Perché non siamo così Però magari Il micropensiero Te viene No Che dice Oh ma Nei momenti in cui Te roda il culo Magari Sono stato ladro Che non te dà niente Sti servizi De merda E guarda Che magari A fine anno Paghi una barca De tasse Però Io ti dico Davide Io sono aperto Al discorso Qualora vogliamo aprire Sul trasferimento Del cerbero Ma quello Cioè Ci sono modi Per farlo legalmente Eh Legalmente Sì sì Ma si può fare Non è Consapevolmente No 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 Ma infatti Non è Era No in Venezuela No 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 Ci sono modi In maniera Se uno si trasferisce In un altro paese Se uno si trasferisce In un altro paese Lavora là In una situazione fiscale migliore Che male c'è Però appunto Dicevo che ne so Magari le classiche Veramente truffettine O le illusioni fiscali Capito Ovviamente no Quelle sono cose che Cioè A parte non potremmo farle Ma neanche agire Come umani No vedi No sarebbe stupido E non da noi Anche Fare una scelta Del cazzo Però appunto Come dicevi te Siamo cresciuti Perché comunque Noi abbiamo iniziato Questo lavoro Che eravamo Anche più piccoli Cioè Cazzo Noi abbiamo iniziato Nel Vabbè 2010 YouTube 2016 Già Comunque dai Diciamo 2018 Col Cerbero 2024 Sto a parecchi anni Gli anni poi importanti Io sto a 8 anni di carriera Tu stai a 6 anni di carriera Cominciano ad essere Capito un bel po' Quindi è ovvio Che piano piano Se tu continui Anche a condurre Una vita Diciamo retta Da questo punto di vista A un certo punto Cioè Sono scelte Difficili Che però Te fanno di cazzo Vado a letto E mi posso guardare Lo specchio Cioè dico Quello è Poter dormire la notte Capito Esatto Cioè io non devo Veramente Non devo Sentirmi in colpa Di un cazzo Non ho rubato Un cazzo Sono fiero Del lavoro Che faccio ogni giorno Capito E sono anche grato Di quello che ho Perché poi ripeto C'è anche una componente Diciamo di fortuna Se vogliamo Oltre all'impegno Che ovviamente c'è Invece tutti i Star Trek Anche streamer Che vogliono vivere Invece In un altro modo Semplicemente Neanche sanno Neanche li giudico Perché non conoscono La retta via Ok Ma vivono Cercando di Scammare Di grattare il grattabile E quell'atteggiamento lì Ti porta a viverti male Poi anche il lavoro Che fai Sì Quindi 100% Li riconoscete Da atteggiamenti tipici E spesso Li sgammiamo pure noi Insomma Esatto Ma infatti Un'altra cosa bella È che Questo lavoro Continuiamo a farlo Con un entusiasmo Penso abbastanza evidente È un'altra Perché è una palestra Sì E quante volte Ho dovuto Magari dire No Questa cosa Non la facciamo Mi sembra una scammata Mi sembra no Perché comunque No Personalmente Ho sempre avuto Una forte bussola morale E quindi In fondo di questo Ogni contesto In cui vado Che sia qui Che sia pure Con la band Cioè È una cosa che Ho notato ormai Consapevolmente Che mi guida E mi aiuta Mi sblocca Situazioni positive Ho notato Che effetti Che poi Nel momento In cui cominci a dire No I no giusti Ovviamente No I no apposta I no giusti Diciamo I compromessi O alle cose negative A un certo punto Poi diventa Una regola Invece Quando cominci a dire I sì Insinui È difficile Torna indietro Perché a un certo punto Cioè diventa tutto Un vabbè Ma sti cazzi Tanto Ma che deve succedere Anche il non vedere La Royal Rumble È stata una scelta Moralmente giusta Quella sì Quella sì E infatti è vendibile È acquistabile Quella scelta Ovviamente con un prezzo Molto alto Cioè 10.000 sub No no Però È così Cioè a un certo punto Nel momento in cui Poi nella tua vita Arrivi veramente A 5-6 anni Di carriera Che hai detto Tutti questi no Hai avuto questo comportamento Non è che Dall'oggi al domani Capito Dici Oh domani ragazzi Spensalizziamo il metodo Di guadagno Cioè È raro Qualche volta è successo Però L'ho visto magari Un influencer Proprio in decadenza Cioè lì era proprio Un motivo alimentare Secondo me Cioè O Sono influencer Che non sono mai Stati onesti Ma semplicemente Non c'avano modo Di dimostrarlo Perché magari giocavano I videogiochi E quindi Facevano i sordi E basta E nel momento in cui È arrivato il banco De prova Oppure persone che Non erano scese a compromessi Ma a un certo punto Si sono venduti Per il pane E non lo so In certi contesti Magari Spesso Anche i contenuti stessi Ne risentono Perché perdono Lo smalto Perdono quella Spontaneità Ma perché li vedi Morenti Che so Sempre i soliti copertini I soliti giochi I soliti cose Diventano degli zombie Non mi fa di citare Sempre lo stesso Youtuber Però ci siamo capiti Di quello stampo lì Diciamo Vecchie a Youtube Che fanno Quei cazzo Deformat Morenti Ormai sono zombificati Quelle copertine così Roba che copiano Dall'America Zero componente creativa Deleghi tutto All staffer Montatore Quello E quel tema Fancazzo C'è solo il brand È una tristezza Infinita E è un lavoro Se lo fai in maniera Diciamo onesta È un lavoro Per carità di Dio Cioè paghi le tasse Non è quello Però lo vedi Che so Hanno perso Proprio capito Quel fuoco Ma anche un fuoco Semplicemente energico Cioè uno pure Che faceva Un spacchettamento De FIFA Per ditte Era contenuto elevato Però C'era quell'energia C'era qualcosa Invece Non c'è più Perché noi ce l'abbiamo Non è perché siamo migliori De altri Ma perché È una palestra per noi Una palestra di vita È una palestra Per magari Il Lo sperimentare Determinate cose Noi stessi Banchi di prova costanti Lo stare insieme Pure quella È una palestra costante Ogni giorno Stai in tre Cinque persone Lavori assieme Periodi di depressione Dove non avevo più Il fuoco Capito Perché non è stato Periodi Però di base Se tu guardi Dal 2018 a oggi Ben o male Siamo sempre stati Unici Eh meno male Meno male Capito Cioè Ci sono stati periodi ovviamente In cui uno era più Magari o stanco O con dei problemi seri Certo Però Diciamo che Non c'è mai stato un momento In cui tutti quanti Ci siamo detti No siamo falliti Dobbiamo fare La live Tanto per Per motivo alimentare No infatti Non c'è Per fortuna Non c'è Ci possono essere momenti In cui siamo un po' più stanchi Magari andiamo più di metodo Cioè può sta Però Non sono mai particolarmente lunghi E lì è bello Che qualcun altro Può riacchiappare la situazione Insomma Quando uno è stanco Ci pensa l'altro Infatti quella è la bellezza Nel team Io dicevo più io Personalmente Nel tutto il resto Della mia vita Insomma Però Per fortuna Mi sono riacchiappato Ritrovando il fuoco In tutto questo Era per chiudere Il discorso Perché Quello è fisiologico Il fatto che uno stia male Umanamente Psicologicamente Ma Quello è umano Non è che siamo Capito Robot Creati Però ecco La differenza è proprio Che a un certo punto Io vedo alcuni Che gettano proprio La spugna Cioè dicono Basta Non ci credono più Però continuano a fare È per questo Che non abbiamo la fortuna Di averci Magari quelle persone Spesso e volentieri Stanno nel loro paesino Per forza di cose Quindi rimangono da sole Non c'è nessuno Che magari gli consiglia bene Neanche hanno magari Un vero rapporto Con la fanbase Quindi la vedono Come un'entità Distaccata Come visualizzazioni Come un click Al link Della sponsorizzazione Quindi Cioè Noto sti problemi qua Nello youtuber Morente Sì Distacco dalla community Ripeto Una zombificazione Dei contenuti Esatto E purtroppo Poi quando magari Uno fa anche delle critiche Vengono prese male Ma volendo Anche quello che ho detto A Cruciani Può rientrare nel discorso Non è un youtuber Ma è un conduttore Che fa quella roba Da una vita Quindi È ovvio Che a un certo punto Se uno si permette Se uno si permette Di criticare un aspetto Un personaggio All'interno Dei tanti Che adotta In quel tipo No non lo puoi fare Perché è in grande Ma che importi No infatti È giustissimo far notare Ad un artista Perché Cruciani È un performer È un performer Io dico Sto personaggio qua De quello Che riduce Tutta Ha rotto un po' Il cazzo Sarebbe ora Di cambiarlo Sì Perché l'abitudine Uccide la creatività E io In quanto anche Suo estimatore Professionalmente parlando E Tra l'altro Anche lì ho detto Cioè Devo molto a lui Come ad altri maestri Quindi non è una mancanza Rispetto È il contrario Proprio perché Lo rispetto Mi aspetto di più Certo Da lui E quindi è Semplicemente una critica Invece viene presa come Ah Muoi cambiare di te No non è cambiare di te Perché sei so fan Che lo degni Delle tue parole Delle tue riflessioni Perché purtroppo Quello che la gente Non capisce E che spesso Nei commenti C'è l'errata Concezione Che la critica Sia un pregiudizio La critica In primis È conoscenza Di un qualcosa Cioè tu devi Conoscere qualcosa E poi lo critichi Più lo conosci E più sei in grado Di criticarlo meglio Perché tutte le critiche Che ci vengono rivolte Superficialmente Sono sempre le stesse cazzate Dei gente che Palesemente Ha visto quattro freebooting Perché Non conosce Perché c'è il manuale Del villain beta Perché non ci conosce Se fa un'idea Stupida Dalle clip Di tiktok Da do freebooting In quel di twitch Non è Non è una Cioè Noi sta molla E famo Sì dai Mo dirà la stessa Che parlano Dell'artri Quello è il musicista Quello è gay Quell'artri è così Quello magna Ok C'è un'ignoranza Di base E poi c'è anche La gente Che sta ancora Indietrissimo Che confonde la critica Stanno a parlare male di Cioè Quelli è proprio Secondo me Stanno Pensiero critico Zero Esatto Questo invece È un pensiero critico Mille Marco Marco Comunque agitato Tipo mezz'ora Che si sta a girare Lo studio Avanti Indietro Eh no Perché dopo Passa un attimo Da il banglato Ah ok Tu volevi solo Volevi solo Vedere Victor Pensavo Sì no anche Allora Victor Lasdro Ieri È stato a Masterchef Greve E quindi Let's go Io ho visto Stavano Sono stato a Masterchef Erano sette No Non c'è audio Mamma mia Oddio l'ha fatto pure L'altra volta No no Andi Andi Eh no Erano sette Mesi Che aspettavo Di dire questa cosa Sette Cosa Cosa Non ha detto niente Aspetta raga Che è successo Sono stato a Masterchef Ah ok Mesi Che aspettavo Di dire questa cosa Sette Ah ok Vabbè E come è andato Che cosa ha cucinato Oddio Io non so Non ne ho idea E mi sa che non è andato Secondo me non c'è stanno clip Ah vedi Cioè Dura Qualche mese Quanto è Avrà fatto sulle selezioni Sì me l'ha detto Mesi fa Ad una fiera Che taglio No no Che selezioni Io sono fan di Masterchef Cerchiamo Masterchef No infatti lui Lui era super fan Aspetta Però Questo 18 ore fa Eh però Non c'è il suo nome Eh non c'è Vittor Laszlo Forse su TikTok Sì ma pure Se cerchi su Google Mattia Ferrari Vediamo C'è una clip Nel suo Instagram Dicono anche Ma noi vogliamo vedere Proprio la puntata Un po' Vabbè andiamo sul suo Instagram Vediamo E nel fuego Calore Ecco Manca a farla apposta Ora ci sono due podcast Di chiamiamoli così Mi piace dirla questa cosa qua Due podcast radical chic Poi magari non lo mani di volta C'è One More Time Che l'ha preso ormai Radio DJ Va su Repubblica C'è Luca Casadei Un'amico mia da 30 anni Con questa voce E vuole che ti racconti Tutta la vita L'altro è quella roba di gazzoli Questo tizio che è sposato Tutto fighettino Che gioca a basche E' tipo un cattellano del podcast Che due coglioni Porco Dio Che vedi fa ride E poi Sì Posso dire Ha sputato solo fatti qui Sì sì E cazzo non c'è capito Vittor Sei un podcast Però è vero che sta fissa Sto periodo Cioè hai proprio preso Sì ma pure quel video Che aveva fatto un po' È stimolante Cioè comunque Era un finto podcast Col cellulare Anche io Tra 20 anni Vorrò fare tutti i progetti diversi Magari esisteranno Nuovi tipi Di Proprio di modi Di fare intrattenimento Su internet E' giusto D'ispirazione Eh deve solo imparare A parlare nel Podmic Sì È un piatto Da profondo rosso Mattia Secondo me È un po' troppo pulito Mi aspettavo Un po' più di aggressività Magari nel sapore Visto che si parla di Insomma Morti ammazzati Esatto E anche da un punto di vista Del proprio estetico Era molto bello Però era un po' pulito Ma nel complesso È un buon piatto Sì Ed è il primo piatto Che ha un po' di grinta È la forza del piatto Perché tu lo guardi E pensi Cosa c'entra con cosa Poi lo assaggi È molto convenzionale Alla vista Che è il gusto Ora sta a voi dare L'ultimo voto E poi io passerò A ritirare Tutti Quale delle tre coppie Avrà conquistato i critici Ottenendo il punteggio più alto E riuscendo così A vincere questa sfida Avevo accennato Che si faceva Tipo il critico Però Da quello che ho capito Gli hanno fatto anche Inserire delle componenti cinematografiche Visto Profondo Rosso Ma ha detto Adesso non mi ricordo Ma ne ha parlato mesi fa Che comunque Doveva fare dei parallelismi Con i film Poi non so Magari hanno tagliato Alcune robe Però vabbè Sono contento per lui Perché comunque Lui è super fan Ad questo programma Ma da Za anni Quindi Mi fa piacere Sinceramente Vabbè perché lui Recensisce i film Quindi Gli hanno fatto fare Sta cosa Sinceramente Gli voglio bene Quindi Bravo ragazzo Se merita Tutto E vabbè Ragazzi Detto questo Punto esclamativo Merch Felpe e magliette Disponibili per il preorder Noi ci vediamo Questa sera Alle ore 21 A dopo ragazzi Ciao 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 Che squali State arrivare Ero I giverainibili per l' Scripe L'Irombie L'Irombie Anche Trestri Si Anche D'A Tu rei io sono La espada che guarda il caudal Tu il l'aria che respiro E la luce della luce nel mar La carganta che ansio moja Che ti moca, ti amo E poi, ti sti scemo Che me scepevo E poi, ti sti scemo Grazie a tutti.